È una grande emozione, ma è una grande emozione anche per la nostra città, il fatto di aver qui l'Assemblea Nazionale dell'Anci e il Presidente della Repubblica credo che sia una grande occasione, ma anche una grandissima emozione. Stiamo lavorando al massimo, ci sono qui anche le mie colleghe che si stanno adoperando, io mi sto adoperando per tutta una serie di lavori magari attirandomi anche qualche antipatia, però d'altro canto devo correre perché il 2023 ormai è la porte. Le città che sono state capitali della cultura, poi l'anno successivo i turisti tornano perché c'è più calma, quindi è un lancio sicuramente importantissimo per la città. Mi scuso se ci sono parecchi disagi, in questo momento per esempio in Piazza Cittadella, però saranno compensati dalla meraviglia dei lavori finiti.